Eccoci qua, siamo ritornati nuovamente con voi, ci sono diverse questioni che dovremmo affrontare tra le quali anche quella del discorso dei vaccini. Prima volevo capire con il responsabile per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro, abbiamo visto che le aziende sono molto attente, seguono i protocolli, quindi pochissime non si sono adeguate, le strutture e le famose RSA, ovvero case di riposo. Qual è la situazione? Perché questa è stata moltissima preoccupazione, ma anche proprio perché sono strutture in sé per sé difficili da gestire. Avete visitato anche queste? Cosa avete notato Fabio Garziotto? Allora, guardi, questi sono i numeri che mi hanno dato i miei colleghi che seguono il settore, io se vuole in due minuti gli dico com'è la situazione. Più che i numeri ci dica la situazione. La situazione è che su 9 e 12 21 case di riposo, che hanno 964 posti pubblici, 353 privati, 685 dipendenti, dipendenti esternalizzati, 237 e non vanno avanti quei numeri, i problemi sono tre. Uno è la carenza del personale. Perché cosa succede? La sanità pubblica, siccome non abbiamo investito per tanti anni e però faccio i miei complimenti alla sanità veneta che ancora una volta ha dimostrato che anche se parliamo il diretto siamo i migliori quando vogliamo. Per me è così. A un certo punto ha cominciato a assumere personale. Molti che erano su casi di riposo hanno detto prendo l'occasione perché non so quanti di noi non l'avremmo fatto. E quindi questo resta l'estremo problema che avevo fatto i numeri. Esatto. Poi l'attenzione per gli anziani, c'è un problema di supporto alle famiglie per la comunicazione perché l'aspetto psicologico dell'anziano, l'ho provato per cose a me molto strette, che a un certo punto mi ha detto tu mi hai abbandonato e hai poco da dire ma io non posso entrare perché loro non capiscono. Allora il supporto psicologico a chi ci lavora ai familiari lo deve garantire la sanità pubblica. Questo sono convinto. Poi ormai siamo tutti matematici, siamo tutti i virologhi. Dove c'è stata la percentuale di morti maggiori? Nelle RSA. Anche per la logistica? Ormai siamo tutti esperti, sappiamo il perché non vado avanti se no perdiamo tempo. Là bisogna partire per primi campagna vaccinale. Ma queste le hanno messi come priorità. In base ai controlli che voi avete effettuato, le visite che avete fatto, anche a livello preventivo, cosa avete trovato di particolare, ovviabile, irrisolvibile? Da quello che mi hanno detto i colleghi, da quello che ho visto io, al di là di 4-5 casi in cui si è dovuto lavorare tanto ma per creare la cultura sulla sicurezza, specialmente su enti privati che siano religiosi o meno religiosi, ma l'ente privato è diverso da una RSA pubblica dal punto di vista probabilmente anche della cultura. 3-4 casi da prendere in mano veramente. Al resto, come con gli imprenditori e lavoratori nelle aziende, io sono fiducioso della gente perché ho notato che a differenza della prima ondata, specialmente quest'ultima, vedo più gente con la mascherina. Mi so che già dovrebbero averla tutti la mascherina. Eh ma guardi, io non le racconto, sabato, ho chiamato il 112, stavo facendo a chiudere una pizzeria. Il titolare è un signore distinto che ha fatto tutto, tutto in regola, bastano due ragazzi che hanno bevuto un qualcosa in più e si mettono seduti fuori senza mascherina e un signore anziano che gli dice mettetela e gli dicono brutto, pelato, di, a parte che lo sono anch'io, ho chiamato il 112, ha capito? Perché? Perché noi dobbiamo capire che se vogliamo venerli fuori dobbiamo farlo tutti assieme, questa è l'unica maniera. Al resto è tutta fufa. Ecco, tutto questo, e qua mi collego anche a un discorso più politico, un po' in generale che riguarda sia l'RSA, ma un po' in generale i comportamenti delle persone. Un attimo che leggo un messaggio. Conosco infermiere che si rifiutano di andare in certi reparti, non poche. Allora, conferma. Ma è anche giusto se uno non se la sente, quelli sono già eroi di suo. A fine pandemia vi sarà un boom di psicologi, nulla sarà come prima, soprattutto dei rapporti sociali, siamo gli uni contro gli altri, chi terrorizzato, chi se ne frega, in bocca al lupo a tutti noi. Allora, se c'è grande attenzione, normalmente il luogo di lavoro salvo eccezioni, vabbè. Però il problema di fatto è, se ne parlo ufficialmente questo, veniamo da 20 giorni di restrizioni, rosso, arancione, insomma, però la pandemia non è che sia crollata. In 20 giorni doveva sparire tutto, come quando eravamo in zona di lockdown. Così non succede, ovviene il bel tempo, la temperatura è alta, i raggi UVB, eccetera, che ci salvano, se no non ci salviamo. Vuol dire che il tutto avviene dentro le caparetti domestiche, cioè fuori dai luoghi di lavoro. Perché i luoghi di lavoro sono tutti quanti bravi, tutti quanti i protocolli sono per lo più attenti, eccetera, e anche dati dell'Inail non risultano, ecco, lei conferma, non risultano questi grandi disastri. Avviene tutto nelle famiglie. Quindi vuol dire che è un'etica individuale della persona, che è irresponsabile e che con grande superficialità se ne torna a casa, va dalla nonna, dal nonno, dallo zio, dal nipote e che continuano a propagarsi e poi magari in questo modo la porta nel luogo di lavoro. Questo è molto grave, perché non se ne viene fuori. Puoi mettere rosso, io dico, potrei mettere rosso per tre mesi, ma se la gente continua comunque per necessità a vedere nonno, zio, nipote tra di loro, oppure come dice lei, tanto prendo una sigaretta, mi tiro giù la mascherina e ti parlo, oppure prendo un caffè pensando che il caffè ti esoneri dal virus. Scusi, ma perché non fa il mio lavoro lei? Eh, bene. No, no, perché io ormai non sono tanto lucido, ma lei ha detto quello che io volevo dire, l'etica... Segretario, non noi veniamo fuori, non è che anche voi come forze sociali potreste iniziare ad agire su leve diverse, perché ci riportiamo sempre su queste cose, mi esonero della responsabilità dicendo vi chiudo tutti in casa, poi quel che succede in casa siete anche in 20, ma io non voglio metterci il naso dentro. E intanto gli imprenditori che ci scrivono, che chiudono tutto e non aprono più. Allora, sì, no, beh infatti anche qua la considerazione da fare sarebbe veramente, porterebbe via delle ore, più che altro perché entriamo veramente da un punto di vista, cioè si unisce la legge con la vita sociale, sicuramente la responsabilizzazione purtroppo anche dei miei concittadini probabilmente non è al 150% come dovrebbe esserlo. Abbiamo visto comunque sempre da dati che le problematicità effettivamente, come diceva ben lei, dai posti di lavoro non è. Potrebbe essere trasmissione magari di contagio, non so, i trasporti ad esempio. Ma tanti vanno in macchina. Ma tanti, anzi sono anche proprio invitati ad andare in auto da soli, quindi il problema è che magari la responsabilizzazione serve, faccio un esempio, una battuta mai concreta per far capire, ormai con tutti i negozi chiusi, centri commerciali chiusi, va bene allora perché si ragiona sempre sulla questione di non fare masse, non accalcare le persone, però adesso cosa succede? Magari le famiglie, una volta andavamo, se sperava insomma, in qualche museo, adesso andiamo tutti... Tutti a casa. Ma a casa no, ma magari andiamo al supermarket che sono gli unici posti aperti, poi magari uno entra prima, l'altro entra dopo dieci minuti perché in teoria dovrebbe esserci anche quello di una persona per famiglia che non succede mai così. Esatto, ma allora il contagio ci sarebbe così a random, ma invece è tutto familiare. Sì, perché tanto poi tutto torna alla famiglia. Dicono che il vaccino dura i sei mesi, ma pensate che la gente ogni sei mesi vada a bucarsi, ora hanno messo o vogliono mettere anche il bianco, del resto è finito il Natale, col giallo, rossa e arancio arrivano le settimane bianche. Sì, vabbè, e qui ci allacciamo ai vaccini. Sì, no, allora questa è interessante la considerazione, il problema qual è? Non lo sa nessuno quanto durano questi vaccini, si dicono sei mesi o nove mesi, un anno, quello... Perché crediamoci il richiamo, dopo 28 giorni se non erano... Sì, dovrebbe essere 21, poi anche lì dipende se è di una marca o è di un'altra marca, quindi lì sono cose veramente esperte e lo lascio a medici, quindi sono i medici che pensano a questa cosa qua. La questione vaccinale, anche qua, secondo me siamo partiti male in Italia, magari sia da un punto di vista veramente organizzativo, in realtà metti anche no, perché comunque stanno andando, secondo me anche a rilento, però insomma stiamo anche andando. Però si parte subito, se non ti vaccini ti licenzio... E' brava, toccate la questione. Sì, cioè per dire che siamo subito partiti... Voi come sindacato cosa rispondete a questa osservazione? Allora, intanto noi come CISL siamo a favore del vaccino, abbiamo anche scritto al presidente Zaia, in questo caso, di riprendere la commissione nata per i protocolli fatti, appunto come dicevo prima, marzo e aprile e ampliarla, quindi il protocollo sulle sicurezze, la commissione sulla sicurezza delle aziende da Covid e ampliarla anche per una campagna di sensibilità di utilizzazione e di informazione, informazioni, a tutti i dipendenti e i cittadini, perché riguarda tutti, per il vaccino, perché comunque insomma è una cosa, senza magari andare a citare il Papa, per dire se poi è etico o non è etico, proprio perché comunque anche lì, lo dico, non mi scandalizzerei nemmeno se ci fosse una legge dello Stato che obbligasse, anche se però lì entriamo su un ragionamento in realtà più giuridico, sulla questione della Costituzione, non obbliga, la vedo anch'io magari un po', sì, magari anche giusta, anche qua eticamente, però è fatto magari di un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, fatto ad hoc e ripeto qua tocchiamo altri, altri appunto problematicità, su quello del lavoro, secondo noi, scusa, dei licenziamenti, stiamo proprio confondendo, stiamo unendo mele e pere, non si può ragionare sulla questione qua dei vaccini, perché appunto dopo una campagna di sensibilizzazione e tutto, probabilmente veramente chi, ma con numeri e le a mano, questo anche io, chi non vuole farsi il vaccino lo fa, oppure chi non lo fa è proprio una questione perché o è immunodepresso o ha qualche altre patologie e problematiche che col medico di base lì saranno ovviamente verificate e tutto, quindi però poi ne discutiamo. Torniamo su questi aspetti anche relativi a alcuni infermieri di cui si parlava un po' prima fuori onda, perché all'inizio non erano disponibili a farlo, insomma ci sono varie questioni che sono emerse, voi avete affrontato pubblicità a pochi secondi.